E' importante votare sì perché la Costituzione vigente tutela l'autonomia a un grado 100, la Costituzione nuova tutelerà l'autonomia a un grado 200, cioè avremo un meccanismo secondo il quale il Parlamento non potrà modificare il nostro statuto se non saremo d'accordo anche noi del Trentino e dell'Alto Adige. Credo che sia una garanzia in più che non possiamo lasciarci sfuggire.